Il maestro Marco Ustenza e l'orchestra regionale toscana sul palco del teatro Mecenate di Arezzo per il concerto pasquale, un'iniziativa tra repertorio classico e contemporaneo organizzata dall'associazione Arezzo Arts Nova. Ad aprire il concerto l'idillo di Siegfriedo composto da Wagner nel 1870. C'è la musica romantica, nel caso di Wagner anche piccola perché il Siegfriedo non usa le forze che di solito si sente con Wagner, un pezzo straordinario. Poi c'è un pezzo nuovo di un compositore italiano, Ivan Fedele, che ha scritto un pezzo per un solista del corno di passetto. Anche lì si trovano idee, si trovano processi musicali che sono straordinari. E poi dopo la pausa c'è la musica di Schumann, Robert Schumann, la seconda sinfonia che per me è veramente un capolavoro. Ma il concerto di Pasqua ha riservato anche una vera e propria sorpresa. Il maestro Stenz ha infatti diretto in anteprima il brano Air on Air di Ivan Fedele, uno dei più rappresentativi compositori italiani d'oggi. Ma è uno dei compositori che stimo di più in Italia soprattutto, ma non solo. Sto cercando di dare a questo strumento da qualche anno ormai un repertorio di alto livello. Siccome ho lavorato per dieci anni con Karl-Heinz Stockhausen e con molti altri compositori contemporanei, Ivan Fedele per me è uno dei più grandi compositori viventi di adesso.